Oh, don Maxime, allora, assi tuo avventur. Beh, e come sono le donne, asce Maxime? In costume. Scostumato? Sì. E allora, io cosa ci farei in un posto sì? Avreste invece un grande successo. Ah, sì. Appena è entrata, sareste subito avvicinata da un viveur. Fiore all'occhiello, baffetti, che con un'aria un po' blasé, vi direbbe Ma il tuo cielo, che cosa fa da Maxime? Una donna così bella tutta sola. Vi tenderebbe la mano, vi aiuterebbe ad alzarvi, si borrebbe di fronte a voi, vi guarderebbe negli occhi, Vi cingerebbe la vita, vi farebbe ondeggiare un poco, pronto a ballare un valse, mentre le note di un violino si sostituiscono alle parole che il labbro non può dire. Grazie. 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 Grazie.